24 Dicembre Figlio mio, dammi il tuo cuore. Proverbi 23 e 26 Dammi il tuo cuore. Inchiniamoci ed ascoltiamolo. Se Dio ci domanda il cuore, non è per amore di sé, ma per amor nostro. Egli vuole ricolmare questo cuore vuoto con l'abbondanza del suo amore. Amico, com'è il tuo cuore in questo momento? Vuoto se l'amore di Dio non lo ha colmato. Il Padre Celeste desidera il tuo cuore anche per illuminarlo, per purificarlo, per saziarlo con la sua grazia. Del resto, amico, sappi che se non donerai il tuo cuore al Padre amorevole, sicuramente qualcos'altro lo occuperà. Il mondo, per esempio, che sicuramente ti deluderà e ti abbandonerà, più triste che mai. Dio lo sa, ed appunto per questo Egli non cessa di ripetere la sua richiesta. Figlio mio, dammi il tuo cuore. Non vuoi esaudire tu questa sua amorevole richiesta? Di solito le preghiere salgono verso il Padre Celeste, portando a Lui i nostri desideri e le nostre angosce. Questa invece è una richiesta speciale, perché scende dal cielo. È la richiesta di Dio. Dio è un Padre che implora insistentemente il figliolo perduto, perché desidera manifestargli il suo amore.